sappiate che c'è comunque è molto difficile quello che sto per fare nel senso non è che lo faccio cioè perché voglio farlo è che sento che è arrivato il momento di c'è secondo me dovremmo prenderci una pausa e lo so che siete in hype e tutto lo so guarda non siete voi cioè è che sono io ho bisogno di un po di tempo per me stesso non c'è credimi è difficile dirti queste cose e cioè siete siete stati dei grandi cazzo cioè io ho passato un botto di bellissimi momenti con voi in queste ultime 72 ore però sentite aver bisogno di almeno tipo capito non lo so un 12 13 ore di pausa non è non è per voi che capito c'è comunque ai miei bisogni c'è c'è youtube non può essere tutto tutta la mia vita c'è nonostante io ci tenga più della mia stessa vita e farei di tutto per te penso che si c'è devo fare un po po devo prendermi un po di tempo per me perché sennò sennò poi sennò poi non riesco più a c'è poi poi ne va anche c'è nel senso non non ci non vi divertite nemmeno voi cioè non vi scopo più bene è palese quindi niente niente grazie per i 5200 iscritti credo e va bene dai ci vediamo oggi pomeriggio con un altro video